Kate Middleton ha indossato due vestiti al suo matrimonio, ecco il secondo abito bianco Kate Middleton è diventata una vera e propria icona di stile in Gran Bretagna, tanto che ogni sua apparizione pubblica riesce a fare scalpore Se negli ultimi tempi la principessa ha fatto il giro del web per la sua terza gravidanza difficile, visto che soffre di iperemesi gravidica, di recente si è tornato a parlare del suo matrimonio da sonno Il motivo? A dispetto di quanto abbiamo sempre pensato, la duchessa di Cambridge ha indossato non uno ma due abiti da sposa, incantando tutti con la sua eleganza Il secondo abito da sposa di Kate Middleton. Anche se sono passati più di sei anni dal Royal Wedding, solo oggi i fan della Middleton hanno notato un dettaglio molto particolare Guardando le foto di quella giornata speciale, si vedrà che la principessa non ha indossato solo l'iconico abito firmato da Alexander McQueen, scelto per la cerimonia religiosa Una volta tornata a Buckingham Palace per la celebrazione intima, ha sfoggiato un secondo vestito bianco Inizialmente si credeva che fosse una versione alleggerita senza pizzo e strascico del primo ma, facendo attenzione, si è scoperto che si trattava di un indumento completamente diverso Il secondo long dress da sposa di Kate era firmato da Sarah Burton, direttore creativo di Alexander McQueen, ed era caratterizzato da un piccolo bustiette, una gonna ampia in satin e una cintura di diamanti che le segnava il punto vita Per completare il look, la duchessa aveva poi scelto un cardigan in morbida lana e tenuto i capelli sciolti Insomma, anche ad anni di distanza, la Middleton si è riconfermata la regina della raffinatezza con un look da sposa minimale di classe Inizialmente si è riconfermata la regina della raffinatezza con un'altra parte